Buongiorno, questo è il browser del telefono, qua ci sono i preferiti, andiamo ad aprire il Corriere della Sede, anzi con la Sede del Corriere. Siamo sotto la rete Vodafone, Primaria P2, Matteo Renzi, Michele Emiliano Andreo Orlando, Francesco, Renzi, segretario, Orlando Fiume, 2,5 centri, rettore di Mecetta, bassa storia, doppia gente, quasi 2 milioni a 6 centri, 800 mila in meno, ma sopra le previsioni, doppio soglio, sto vedendo l'ex presidente, quasi dovevano da 2 euro e sono andate a votare, chi c'è andato? Io non so in modo, perché mi ripetono, non me ne frega, non me ne frega una beata minchia. Il presidente boicotta la Sedezione, c'era una stampa a Washington, io 3 milioni e un'altra, vedi, guarda, sono tolto un'orba da un sublo, qui capite, questi due di piastra di questo, sperando che prima di una grotta c'è un'unica di tutto, da scuola, 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 ragazzi, che non sanno fare una capriola, addirittura, affanno, adesso mi facendo una destina, vabbè, Inter, Napoli, c'era un cala, io anche sti generazzo, che bella cosa.